Allora, il professor Salvatore Anatoli, ospite del Festival Francescano 2014 a Rimini, interviene in un paio di incontri, in uno di questi, per rappresentare il libro L'educazione alla felicità, recentemente pubblicato. Ecco, si può educare alla felicità? Ma direi che la felicità resta occasionale, rapsodica, perché sollecitati da eventi esterni, da fatti particolarmente emotivi, da accensioni dell'anima. Ecco, ma questa felicità ha la caratteristica, come gli uomini sanno, di essere labile. L'educazione alla felicità vuol dire sostanzialmente trasformare questa esperienza in un bene stabile. E allora per farlo bisogna acquistare competenza, e competenza soprattutto intanto sulle proprie capacità, perché la felicità non è altro che la propria realizzazione. E in secondo luogo, le nostre capacità e la nostra realizzazione non possono prescindere dalle relazioni col mondo e con gli altri. E quindi l'educazione alla felicità è la triangolazione, o se si vuole il circolo virtuoso tra io e altri mondo, mondo e altri io, perché al di fuori di questo circolo c'è una linea spezzata che evidentemente rende gli uomini tristi. Non c'è una felicità da soli? Non ci può essere, perché l'uomo è per essenza un essere relazionale. Ogni nostro rapporto, ogni nostro movimento è relazione con oggetti, relazione con cose, relazione con la natura, cosa vorrebbe dire l'uomo senza relazione? È nella relazione. Le relazioni o sono giuste o sono sbagliate. Se sono giuste sono felici, se sono sbagliate sono dannazione. Ma la felicità di Francesco, questa letizia francescana è una cosa, diciamo, un'aspirazione, una prospettiva, qualcosa di reale? Ma se uno legge il Cantico delle Creature, la chiave c'è. Tutto è santo perché ogni cosa è benefica. Frate fuoco, il vento, l'acqua, preziosa e casta. Più riconoscimento di questo, del bene che ogni realtà creata ha per sé e per gli altri, più relazione di questa cosa vuole.